Ciao a tutti, vediamo altri problemi sul moto parabolico. Una palla da golf colpita con una mazza a livello del suolo atterra 92,2 metri più avanti e 4,3 secondi dopo il lancio. Ci sta in pratica fornendo la gittata e il tempo di volo. Il problema vuole conoscere la direzione e il modulo della velocità iniziale. La gittata possiamo scriverla in più modi, ad esempio v0x per t, oppure possiamo scrivere che la gittata è uguale a v0 al quadrato per 2 seno di teta coseno di teta diviso g. E il tempo di volo è uguale a 2 v0y su g. Vi ricordo che se questo è v0, qui abbiamo v0x e qui abbiamo v0y. Se questo è teta, sappiamo come ricavare le espressioni per v0x e v0y. Ma vi faccio notare e vi ricordo che in un triangolo rettangolo il rapporto tra v0y, cioè tra la componente verticale del vettore, e la componente orizzontale del vettore è uguale alla tangente di questo angolo, che noi possiamo ricavare tranquillamente con la calcolatrice. Perciò, se noi riusciamo a determinare v0y e v0x, noi riusciremo a trovare il modulo della velocità iniziale, che vi ricordo è la radice quadrata di v0x al quadrato più v0y al quadrato. E riusciremo a ricavare la direzione determinando questo angolo come tangente alla meno 1, sempre grazie alla calcolatrice, di v0y su v0x. La cosa più semplice da fare è determinare v0x in quanto è la gittata diviso il tempo, 21,4 metri al secondo. v0y la ricaviamo da questa espressione ed è uguale a g per t fratto 2. E abbiamo 21,1 metri al secondo e a questo punto abbiamo finito. Questa è v0, quindi sarà la radice quadrata di 21,4 al quadrato più 21,1 al quadrato. Il risultato è 30,1 metri al secondo e per quanto riguarda l'angolo, quindi la direzione, faremo questa operazione. Ed ecco il risultato. Abbiamo ottenuto il modulo e l'angolo formato da questa velocità iniziale con l'orizzontale, e quindi la direzione della velocità iniziale. In un incontro di basket un giocatore fa rimbalzare la palla verso il centro. La palla viene lanciata dalle mani del giocatore a 80 cm al di sopra del pavimento con una velocità iniziale di 4,3 metri al secondo e un angolo di 15 gradi sotto l'orizzontale. Che distanza copre la palla in orizzontale prima di rimbalzare? Ecco una rappresentazione molto schematica della situazione. Abbiamo questa altezza h che è 80 cm, qui è già scritto in metri, 0,8 metri, l'angolo teta è 15 gradi sotto l'orizzontale e poi abbiamo la velocità iniziale che è 4,3 metri al secondo. Io qui ho già rappresentato la componente verticale della velocità. Vi faccio notare che siamo in questa situazione. Ho trattato i casi particolari del moto parabolico in un video precedente che trovi qui linkato. Dal momento che l'oggetto parte da un'altezza h e deve giungere a un'altezza pari a 0 la legge oraria del moto uniformemente accelerato che è il moto verticale ci dirà che la posizione finale che è 0 è uguale alla posizione iniziale meno p0y per t meno un mezzo gt al quadrato. La velocità iniziale è rivolta verso il basso, quindi è negativa. Avendo l'altezza, avendo la velocità iniziale che possiamo determinare scrivendo v0y come v0 per il seno di teta, possiamo determinare il tempo. Quello che facciamo è scrivere in pratica un'equazione di secondo grado. abbiamo un mezzo gt al quadrato più p0 seno di teta per t meno h uguale a 0. Non ho fatto altro che cambiare i segni di questi termini in modo da avere un'equazione di secondo grado classica del tipo ax alla seconda più bx più c, però con a strettamente positivo. Non è obbligatorio assolutamente, ma è una questione di comodità. Sostituisco i valori e qui ho un mezzo per 9,81 t al quadrato. Non sto scrivendo le unità di misura per una questione di comodità. Ora posso usare tranquillamente la formula risolutiva. a è questo termine, b è questo termine e c è questo termine. Perciò scriverò meno b, 4,3 seno di 15 più o meno la radice quadrata di b al quadrato meno 4ac, meno e meno fa più 4 per un mezzo fa 2 quindi ho 2 per 9,81 per 0,80 tutto diviso 2 volte a quindi 2 per un mezzo per 9,81 che fa 9,81 Naturalmente 4,3 per il seno di 15 si poteva anche scrivere direttamente qui come numero per evitare di portarselo dietro L'ho scritto così perché il seno di 15 è un numero che dovrei approssimare così faccio il conto in un unico passaggio e evito approssimazioni eccessive Facendo i calcoli per bene noi qui otteniamo intanto un valore negativo che non sto a scrivere ma ottengo un risultato negativo e non posso accettarlo perché il tempo non può essere negativo e poi ottengo l'altro valore che invece è quello che mi interessa che è 0,31 secondi e a questo punto noto il tempo la gittata non sarà nient'altro che v0 coseno di teta ovvero la componente x della velocità per il tempo v0 è 4,3 il coseno è di 15 gradi e il tempo lo abbiamo appena trovato qui abbiamo metri al secondo qui abbiamo secondi otteniamo metri otteniamo una gittata di 1,3 metri era la domanda del problema che distanza orizzontale copre la palla prima di rimbalzare questo video di problemi sul moto parabolico termina qui io spero come sempre che vi sia stato utile vi saluto vi ringrazio e alla prossima ciao